Amici di Calciopazzo 2, un affare molto prossimo alla chiusura è quello dell'esterno offensivo del Bruges, esterno belga Arnaud Grunewald, olandese e nigeriano qui su Transfer Market, è un esterno di 21 anni, molto forte fisicamente, la sua qualità maggiore è la progressione, cioè ti lascia sul posto in progressione, usa indifferentemente destro e sinistro ed è molto vicino al Milan, su di lui ci sono anche delle squadre inglesi, ma il Milan sembra che sia comunque in vantaggio, adesso c'è soltanto da capire se per gennaio, insomma prima della chiusura del mercato, o molto più probabilmente per giugno. Andiamo a leggere qualche caratteristica, ha 1,78 quindi 21 anni, leggo qui vedo un più grosso così, per cui credo che sia ancora in combatescenza per un infortunio, tant'è vero che in questa stagione, andiamo a leggere il suo rendimento, in questa stagione, soltanto 11 presenze che comunque vanno a sfociare in 4 gol e 3 assist, quindi comunque non è male, anche in Champions League con due presenze comunque ha segnato una rete, per cui è un giovane sicuramente interessante, andiamo a vedere come si sviluppa questa trattativa, io credo insomma che i tifosi del Milan possano essere soddisfatti qualora arrivasse questa tipologia di calciatore. Un saluto e sempre caccio paccio!